Luca, vediamo il fatto quotidiano sulle questioni del lavoro? Sì, perché appunto sia il fatto quotidiano che il sole 24 ore aprono con le novità che vengono dalla trattativa sul mercato del lavoro. Lavoro si chiude in una settimana, portare il tasso di disoccupazione al 4%, questo è l'obiettivo. Sarebbe una bella cosa. Perché? Qual è la novità? Un accordo entro pochi giorni, ammortizzatori a regime nel 2015, promette la Fornero, un contratto a tempo determinato costerà di più. Vediamo il sole 24 ore che invece punta per il suo titolo sul bonus. La Fornero promette a tutti i disoccupati un bonus di 1100 euro. E poi il sole ha una scheda con cui spiega come funzionerà il nuovo sussidio, l'Aspi, che sarà erogato a tutti i disoccupati. Questi 1100 euro sono anche il titolo d'apertura di Libero, di Libero Online in questo momento. Allora, noi siamo collegati con Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Buonasera. Buonasera. Allora, si fa l'accordo sul mercato del lavoro e stavolta si fa, mi pare di capire, senza toccare l'articolo 18, che per voi era un po' un feticcio? Vedremo, perché questi accordi bisogna sempre leggerli alla fine per capire esattamente cosa c'è dentro. Abbiamo discusso per settimane sulle liberalizzazioni come se si trattasse dei taxisti. In realtà, in quel decreto lì, si sono liberalizzati tutti i servizi pubblici locali e si è abolito il contratto nazionale di lavoro degli autoferro-tranvieri. Quindi bisogna leggere dopo cosa c'è scritto dentro, per essere sicuri. Senta, la manifestazione dei metalmeccanici, noi l'abbiamo seguita in diretta, voi c'eravate con le vostre bandiere e in modo molto presente. È stato detto da vari esponenti del PD, è un modo improprio di fare sindacato, la FIOM fa politica, cerca di coalizzare tutto il dissenso, ma così non si va da nessuna parte. Lei, diciamo, è stato anche al governo e sa che ad un certo punto le lotte debbano trasformarsi in obiettivi. Che cosa dice? Come risponde a questa critica? Io penso che la FIOM stia cercando di fare sindacato e di farlo al meglio possibile. Poi la FIOM si trova di fronte a un problema grande come una casa, e cioè che in questo paese è pressoché scomparsa l'opposizione parlamentare, nonostante il governo faccia delle politiche di destra e delle politiche significativamente contro i lavoratori, perché la recessione che è provocata anche dai tagli alla spesa pubblica la pagano in primo luogo i lavoratori. Quindi la FIOM si trova per sua natura, volendo fare bene il sindacato, anche a svolgere in qualche modo un compito di punto di riferimento politico, perché purtroppo chi dovrebbe fare opposizione in Parlamento non la fa o non la fa con la dovuta forza. In questo senso quella non era solo una manifestazione sindacale, ma è stato anche un fatto politico. Banalmente c'è chi c'è andato e c'è chi non c'è andato alla manifestazione della FIOM. Qual è lo schema di Ferrero? La foto di Vasto, cioè un'unità che va dal segretario del Partito Democratico fino ad altre forze di sinistra, non Grillo, credo, ammesso che lei consideri Grillo di sinistra, oppure risucchiare vendola in una intesa con rifondazione e applicare lo schema delle due sinistre? Guardi, io penso che la foto di Vasto non ci sia più. Lo dico perché a me pare abbastanza evidente che il governo Monti ha una capacità costituente, ha una forza attrattiva molto forte e attorno al governo Monti si stanno ridefinendo le politiche. Non è pensabile che il governo Monti vada avanti un anno, un anno e mezzo col Partito Democratico che vota le misure che il governo Monti fa e tutto rimanga come prima. La mia opinione è che il Partito Democratico, e lo ha detto peraltro in modo molto netto, voglia stringere un rapporto col centro sull'idea che in quel modo può mettere più in margine... Veramente il Partito Democratico sembra dividersi su questo punto, perché c'è chi dice non regalare Monti o Casini alla destra e chi dice no, io vado avanti, pare Bersani, con la mia linea e punto o no? Abbiamo capito male? Io la vedo in un modo un po' diverso, nel senso che anche Bersani o D'Alema, diciamo gli esponenti di quella maggioranza che ha vinto il congresso del PD, hanno sempre detto che l'unione con l'Italia dei Valori, con Sinistra e Libertà, con noi, non era esclusiva, ma andava coniugata anche con un accordo col centro, questo è sempre stato detto in verità anche da Bersani e la ricerca del rapporto al centro... Ma scusi, ma lei se ci fosse da allearsi anche con Fini per fare una riforma del fisco che faccia davvero pagare chi non paga, lo farebbe questa alleanza, no? In tutta franchezza non penso che un'alleanza con Fini o con Casini determinerebbero l'esito positivo per la riforma del fisco, perché Casini e Fini sono stati al governo molto in questi anni, diciamo soprattutto con la destra, e non mi risulta che abbiano mai proposto cose che io penso siano necessarie, come la tassa patrimoniale o cose di questo tipo. Però a me pare che lo schema è questo, che Bersani dice va bene l'alleanza con le forze di sinistra, ma il punto centrale è il centro, cioè è l'accordo poi con il centro. E secondo me il governo Monti sta accentuando moltissimo questo elemento e lo trovo logico anche, perché se si vota insieme per un anno e mezzo è complicato poi fare altre cose. Allora a mio parere in questo senso la foto di Vasto non c'è più, se non nel senso che ci si può aggiungere a quella linea politica, ma che è una linea politica già tracciata e di tipo centrista. Ma se lei non vuole che Bersani si proponga per il governo del paese, quindi con le necessarie alleanze, perché lo schema del bipolarismo berlusconiano non funziona più, quindi è evidente che qualunque forza politica non potrà governare nella prossima legislatura senza alleanze. Che fa? Gli dice no, devi scegliere l'opposizione. No, io ho sempre detto una cosa molto semplice, che nel paese se si fa un ragionamento chiaro, secondo me c'è una maggioranza per vincere da sinistra e non dal centro. E' il motivo per cui io pensavo fosse necessario andare alle elezioni subito quando Berlusconi è caduto, ed è il motivo per cui oggi, avendole a Di Pietro, dico invece che inseguire la foto di Vasto che è sempre più sbiadita, facciamo una foto di Piazza San Giovanni, cioè mettiamo insieme la sinistra le forze che si sono schierate assieme alla FIOM, facciamo l'opposizione al governo Monti e ricostruiamo un elemento di riferimento politico per quei lavoratori che si ritrovano oggi da soli. Poi da lì si può anche discutere col PD, io mica dico che non bisogna discutere col PD, ma non si può pensare che qualcuno insegue il PD, il PD insegue Casini e alla fine tutti si ritrovano sulla linea politica dell'Udc. La fermo solo per un momento. Volevo sentire da Luca come sta andando, è appena cominciata, la trasferta europea del Presidente del Consiglio. Che cos'è in ballo in Europa? Allora, sul tavolo la patata bollente è la Spagna oggi, perché sappiamo che il Mariano Raccoi all'ultimo vertice europeo ha chiesto di poter allentare i vincoli di bilancio e non ha confermato gli impegni che ha a suo tempo assunti con la commissione di tagliare il deficit pubblico per il 2012. I capi di Stato e di Governo gli hanno detto che non era assolutamente accettabile, hanno rimandato al mittente la sua richiesta di una minore austerità, di una minore severità per quest'anno. Oggi i Ministri dell'Economia si vedono, sono riuniti in questo momento. L'incontro è stato preceduto da un lungo bilaterale fra Schäuble, il Ministro tedesco e il Ministro spagnolo Ghindos, al termine del quale Schäuble ha detto che la Spagna sta facendo bene, ma la strada è ancora lunga, il che non riusciamo a capire che cosa significa. Il titolo del Paese traduce per gli spagnoli e dice che la Germania apprezza il grande sforzo che la Spagna sta facendo. Questo è un elemento di difficoltà. Un altro elemento purtroppo non positivo è che oggi sono andati sul mercato dei titoli di Stato i nuovi titoli greci, quelli che sono usciti dal default. E vanno malissimo. E vanno purtroppo quasi male come quelli precedenti. Questo significa che il mercato non ha fiducia in questo nuovo pacchetto di ristrutturazione e forse dovremmo tornarci sopra. Ora, una delle cose che però tornano è l'altra foto, perché c'è una foto diversa che sarà mandata sui circuiti fra qualche giorno, sabato prossimo, ed è la foto di un socialdemocratico tedesco, di Pierluigi Bersani e di Holland, il giorno prima va da Lema a Parigi. Questa è una foto che preoccupa un po' tutti, perché per ora abbiamo parlato di un'Europa franco-tedesca, Melker-Sarkozy, e poi di punture di spillo, differenziazioni, di Monti, Monti con Cameron, Monti con Rajoy, Monti che porta dentro questa partita un punto di vista più obbamiano, nel senso del Presidente degli Stati Uniti, e di Draghi che, sì, è il più tedesco di tutti noi, ma in qualche misura è riuscito a finanziare, in parte, non solo le banche, ma anche il debito dei Paesi sovrani, con un artificio, pur essendo la Banca Centrale Europea, non libera di farlo, come invece la Federal Reserve o la Banca d'Inghilterra. Questi, diciamo, uomini politici si vedranno, e se Hollande mai vincesse le elezioni in Francia, Hollande ha detto che l'alleanza con la Merkel, sì, ma bisogna rivedere il fiscal compact, cioè il patto di stabilità e parecchie altre cose. E dall'altro lato Sarkozy, che aveva fatto della sponsorizzazione di Angela Merkel, la sua carta vincente, non si sa bene come, sulla base di quali sondaggi dell'opinione pubblica francese era la carta che si voleva giocare Sarkozy, ha abbastanza cambiato linea, cerca soltanto, in tutti i modi, di recuperare il voto di destra, ex enofo, come quello che finisce a Marine Le Pen, figlio del famoso Le Pen, e per farlo dice che bisogna ridiscutere Schengen, quindi di mettere frontiere per gli immigrati, ma anche per gli europei meno probbi, meno cattivi, meno franco tedeschi. Allora, davanti a un'immagine di questo genere, sarebbe interessante sapere se il discorso che faceva Ferrero poco fa si conferma, cioè come gioca la variabile europea, la variabile socialdemocratica. Ma prima di dare la parola a Ferrero, vorrei che sentissimo la battuta di Pierluigi Bersani, che fa da titolo d'apertura alla home page della Repubblica. Sentiamo Bersani. Penso che sia piuttosto dai responsabili accendere dei fuochi in un momento nel quale bisogna comunque mandare avanti un'azione dei governi in questi mesi. Questa era la battuta di Bersani. Allora, torniamo a Ferrero. Allora, socialdemocratici tedeschi, Bersani, Holland, è una fotografia un po' diversa da quella di chi insegue Monti, o Casini, o Fini, non le pare? Abbastanza. Però dalle cose che venivano dette si possono già attrarre due elementi di giudizio. Il primo è che Raccoi, cioè il premier spagnolo, che è democristiano, la destra, diciamo, spagnola, è più a sinistra di Monti. Perché Raccoi sta difendendo il fatto che la Spagna non venga massacrata dai tagli di bilancio, cosa che invece Monti non ha fatto. Questo va sottolineato, perché a volte in Italia perdiamo il senso delle dimensioni. Ha dato agli imprenditori privati la possibilità di licenziare se solo si diminuisce per due esercizi il profitto. Questo ancora in Italia non c'è. Aspettiamo di vedere come va a finire la trattativa sul mercato del lavoro. Temo che non finisca molto diversamente. Ma in ogni caso, ad oggi sul bilancio pubblico Raccoi tiene che è una cosa rilevante. Secondo, di questi che lei ha citato, indubbiamente Hollande, il candidato alla presidenza francese, è quello che ha assunto posizioni migliori, perché ha messo in discussione il fiscal compact, ha messo in discussione l'aumento di età pensionistica deciso da Sarkozy e avanti. Faccio notare una cosa. Hollande fa i conti perché alla sua sinistra esiste il front gauche che ha il 10%, che viene dato al 10%. Allora io penso che c'è una cosa virtuosa, che se si fa una sinistra forte, che è unita, che il conflitto genera buona politica. Questo fa sì che anche le socialdemocrazie, invece che guardare solo al centro, debbano anche guardare agli strati popolari. Chiarissimo. È esattamente la cosa che vorrei fare in Italia. Se anche in Italia facessimo Federazione della Sinistra, Vendola, Di Pietro, una bella cosa, secondo me Bersani inizierebbe a guardare più di qua che dall'altra parte. Domani porta a Roma, lo so, un leader della Linke, cioè del partito che è a sinistra dei socialdemocratici tedeschi. Noi non mancheremo l'appuntamento. Ringrazio. In realtà questo appuntamento lo sposteremo di qualche giorno. Ah, non sarà domani. Va bene. Quando lo avrete ce lo fate sapere perché è interessante sapere non solo quello che dicono la Merkel e i socialdemocratici tedeschi ma anche quest'altro partito. Grazie Ferrero. Grazie a voi. Grazie a voi.